Obiettivo natura ed escursioni fotografiche, in che modo si racconta la regione Campania attraverso la fotografia per un esperto come lei? Negli ultimi tempi siamo stati fortunati perché i social si hanno aiutato tantissimo a far conoscere la nostra regione. Grazie anche all'era digitale questo si è ampliato ancora di più. Ha fatto sì che ha invogliato molti appassionati della fotografia perché nel momento in cui le immagini della nostra regione viaggiavano sul web hanno incuriosito molte persone ma non solo della regione Campania. In ogni escursione che noi facciamo vediamo che spesso e volentieri si aggregano anche persone che non sono della nostra provincia, fuori provincia e addirittura vengono anche da fuori regione. E questo ci fa molto piacere perché questi posti che più delle volte erano solo per pochi oppure non erano conosciuti anche agli stessi abitanti della regione Campania, con queste escursioni, con questi appassionati della fotografia hanno fatto in modo che con le immagini che loro mettono sui social o su altro hanno fatto vivere a persone delle cose che prima non si sapevano, non si conoscevano o solo per sentito dire. Clicca Angri è un'associazione storica, è nata negli anni 90 e man mano nel suo percorso ha cercato di dare sempre un'impronta diversa anche per quanto riguarda le uscite. Prima è nata solo come mostra fotografica oppure qualche cosa che racchiudesse la fotografia in luoghi chiusi, poi man mano crescendo abbiamo portato anche queste escursioni. Il prossimo nostro obiettivo andrà fuori regione, abbiamo pensato di fare un due giorni, non diciamo ancora la location perché non è ancora sicura, però faremo qualche cosa anche fuori regione Campania. Per un fotografo esperto come lei che ha viaggiato è stato anche fuori dalla regione Campania, che cosa ha in più la nostra regione da un punto di vista fotografico, attraverso un obiettivo, cosa trasmette? Allora noi abbiamo una regione che è molto eterogenea, nel senso che ci sono dei posti che sono totalmente diversi rispetto agli altri, però tutto compreso nella nostra regione. E questo è un qualche cosa di positivo, soprattutto per chi vuole fare una ricerca fotografica, per chi vuole avere anche una diversificazione del prodotto fotografico che vuole andare a cacciare. Penso che la regione Campania dia molto spazio, molto eterogenea, quindi per chi vuole avere un qualche cosa di diverso penso che sia proprio ideale. Grazie. Grazie.